Cosa sta succedendo nel centro-destra? Gli ultimi sondaggi politici AG, Utrend e Ipsos segnalano la resa dei conti tra Meloni e Salvini. La lega di Matteo Salvini è al minimo storico dall'inizio della legislatura e il calo di consensi è di circa il 7%, questo il dato fondamentale degli ultimi sondaggi politici AG, Utrend e Ipsos. Fratelli d'Italia continua a crescere in maniera importante, e insidiando la prima posizione del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle resta grossomodo stabile, ma probabilmente per leggere l'impatto sui consensi delle vicende giudiziarie connesse alla leadership di Giuseppe Conte bisognerà attendere un'altra settimana. Un'altra sorpresa arriva da Italia viva di Matteo Renzi che si affaccia nuovamente al 3%, soglia di sbarramento, e la crescita di consensi è legata all'idea dell'ex premier di creare un centro moderato, una riedizione del terzo polo. Il Partito Democratico si conferma ancora prima forza politica in Italia con il 21,1% di consensi e con un leggero calo dello 0,2%. I sondaggi politici Agi, Utrend, una supermedia dei più importanti sondaggi dell'ultima settimana, segnala una crescita dello 0,8% per Fratelli d'Italia che supera quota 20% e arriva al 20,2%. Il distacco dal PD è oramai ridotto a meno di un punto percentuale. Lo stesso risultato, ma a rovescio per la Lega di Salvini che perde lo 0,8% e scende al 17,5%. Lo spostamento di consensi dalla Lega FDI è chiarissima. Il Movimento 5 Stelle è al 14,4%, con uno scostamento del meno 0,1%. Al momento FDI più Lega sono al 37,7%, mentre PD più M5S al 35,5%. L'ago della bilancia saranno come sempre i centristi. E arriviamo dunque all'area dei moderati. Forza Italia lascia sul campo lo 0,3% e scende all'8,1%, Mentre azione con più Europa si trovano al 4,3%, dopo aver perso lo 0,4% di consensi. Cresce Italia viva che balza dal 2,2% al 3,0%, segno di un rinnovato interesse degli elettori italiani per un centro moderato. Grazie.